Fa discutere la richiesta dell'ASD dell'Aquila di sopperire alla mancanza di medici di base nella zona dell'Alto Sangro con medici militari. Il manager Ferdinando Romano ha spiegato che si fa difficoltà a garantire la continuità assistenziale, soprattutto come guardia medica, nelle zone interne. Ci sono incarichi vacanti a Pesco Costanzo, Castelli Sangro e Pescasseroli. Già da tempo gli amministratori della zona lamentavano la mancanza di pediatri e medici di base, chiedendo il ripristino del 118 con ambulanza medica e della guardia medica. Per il manager le procedure di reclutamento sono sempre aperte. Dal 1 febbraio un medico coprirà 10 turni a Pesco Costanzo, dal 1 gennaio sempre lì è stata attivata una postazione 118 medicalizzata, ha detto, per le ore notturne. Ora arriva la proposta di usare medici militari, ma questa proposta a una parte di politica non è piaciuta affatto, rappresenta un fallimento e per la CGL è di una gravità inaudita. La CGL ha già raccorto 2000 firme, assieme al Comitato Ponte del Giovenco il 1 febbraio si porterà la protesta sotto la direzione generale di via Saragat. È una proposta, noi l'abbiamo interpretato come un atto grave, è una manifestazione plastica del fallimento gestionale di questa direzione strategica. Il territorio e l'alto sangro e la popolazione che vive il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio Molise, meritano un'attenzione diversa. Questa è una soluzione temporanea, che vuol dire che avrà una durata di qualche settimana, casomai arriverà a conclusione dopo le elezioni regionali. Noi invece chiediamo che ci sia una stabilità e una soluzione che sia definitiva per quel territorio. Loro dicono che il reclutamento è sempre aperto di personale, cosa c'è secondo voi che non va? C'è una mancata programmazione degli anni. Considerate che lì c'è una vicenda sull'emergenza urgenza, cioè penso al 118 con ambulanza medicalizzata, una criticità che noi denunciamo da oltre due anni. C'è oggi la vicenda della continuità assistenziale e la guardia medica, vicenda che non ha trovato soluzione. E' chiaro che se noi ci svegliamo oggi rispetto a quelle che erano necessità anche del passato, che sono dovute, e lo ripeto, ad una mancanza di programmazione e di investimenti in personale e tecnologia, è chiaro che oggi quella popolazione vive un disagio e una condizione di precarietà.